In una società contemporanea la dimensione dell'istruzione è fondamentale. Il fatto di poter mettere in condizioni, in questo caso una scuola primaria, i bambini di poter crescere e formarsi in un ambiente sano con le condizioni strutturali per poter esercitare al meglio la loro funzione primaria, che è quella di apprendere, di conoscere, di formarsi, è per una civiltà quello che è il passo fondamentale che ne distingue la qualità. Arianna Cecchini, sindaco di Capannoli, è stata bravissima, l'ho vista in questi anni impegnata nel attingere risorse a quello che era un progetto che nella precedente governatura era stato messo in campo per l'edilizia scolastica e nel corso degli anni avere le risorse, poter concretizzare l'appalto, vedere oggi l'inaugurazione per il comune di Capannoli e per la sua prima cittadina deve considerarsi davvero una soddisfazione che corona un sogno che oggi diventa realtà per i bambini di questa splendida cittadina della Valdera. Sono contenta, in realtà anche questa scuola fa parte di un percorso lungo, virtuoso e davvero importante per questa amministrazione comunale. Qui mi permetto di dire la soddisfazione doppia perché io ho partecipato anche alla cerimonia di posa della prima pietra, quindi tornare qui dopo due anni e avere l'opera completata con queste caratteristiche di sicurezza e anche di modernità rispetto agli ambienti di apprendimento è veramente una grande soddisfazione, un plauso quindi all'amministrazione comunale. Abbiamo posato la prima pietra circa due anni fa, quindi era il mese di marzo, due anni dopo abbiamo questa nuova scuola che dal lunedì sarà operativa, i bimbi saranno qui, dieci classi, quindi oltre 250 bambini qui e quindi la soddisfazione ovviamente è immensa al di là delle scelte progettuali rispetto a questa scuola, insomma una scuola che dal punto di vista energetico si alimenta pressoché da sola, una scuola con ampi spazi, una scuola... Questo era il tuo progetto di base o uno dei tuoi progetti importanti del tuo mandato? Credo che uno dei tanti ma il più qualificante, sicuramente sì. Sì, in realtà con la realizzazione di questa struttura abbiamo creato un vero polo scolastico, la scuola primaria appunto, la scuola media e la palestra che sono nello stesso spazio, insomma, nella stessa area. La popolazione a Capanno li aumenta se non vado errato, questa è una struttura che può rispondere alle esigenze del territorio? Sicuramente sì, sicuramente sì, ci sono spazi locali che saranno aule, locali che saranno laboratori ma se ci sarà bisogno di crescere c'è posto per crescere e per ampliare ulteriormente la scuola. Io ritengo che scuola e lavoro siano il punto finora debole del sistema, diciamo, di formazione perché spesso abbiamo visto i ragazzi crescere con una formazione che poi nel momento in cui ci si avvicinava al mondo del lavoro doveva essere sostanzialmente adeguato da zero a quello che era la necessità di formarsi per quella o quell'altra professione. Il progetto di alternanza scuola-lavoro che nel contesto della buona scuola e del governo Renzi è stato messo in campo è stato forse l'intervento più efficace che negli ultimi anni ha integrato quelle che sono le due dimensioni fondamentali perché dalla formazione si passi alla creazione di lavoro e di professionalità adeguate. Devo dire che la Regione su questo, anche con il progetto Giovani Sì, ha fatto la sua parte, la sta facendo e per la Regione Toscana quel concetto dell'articolo 1 della Costituzione, che la Repubblica è una democrazia fondata sul lavoro è il concetto a cui noi ci ispiriamo e su cui tanti progetti concreti e risorse stanno oggettivamente offrendo buoni risultati. Sì, noi come Giunta abbiamo fatto una scelta ben precisa da subito e cioè appunto nonostante le minori risorse complessive del bilancio regionale quella di non tagliare di un euro l'istruzione, il sociale e la cultura. È stata una scelta ben precisa, condivisa unanimemente e di cui andiamo molto orgogliosi. I risultati ci sono stati, siamo la Regione che ha abbassato di più la dispersione scolastica e anche il tasso dei NIT, cioè di quei ragazzi che sono fuori dai percorsi formativi e dai percorsi di lavoro. Quindi questo trasportandolo in termini assoluti vuol dire migliaia di ragazzi che hanno più opportunità. Quindi questo per noi era l'obiettivo principale, il successo formativo. Continuiamo a lavorare in questa direzione, continuiamo a lavorare cercando di stimolare la costruzione di reti come in questo caso per fare anche sinergia di finanziamenti e quando questo succede anche fra diversi livelli di governo a partire dall'Europa i risultati ci sono e anche in tempi ottimali. Grazie Grazie Grazie